E' bello a tutti ragazzi come... Oh! T'ho zitto! E' bello a tutti ragazzi come Omar per metti questo nuovo video Oggi lo faremo a BigBot con questi pezzi di me Scusa! Scusa! Tu sei pezzi di me! Tu sei... San Cristoforo! Scusa! Raga, chi vuole fare fight con me? Chi vuole farlo? Ah, facciamo tre! Tre! Raga, vinti! No, raga, raga, facciamo tre! Facciamo tre, guardate! Madonna, io sono genio, sono dieci in matematica Non ho otto Allora, tre! Due, uno, via! E' già caduto! Volevi! No! No, 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 no! No! Che fail! Con un snail! No! Che fail! No, si impaccia tu! Madonna! Vabbè No, l'arco non vale! No, l'arco non vale! L'arco è una cosa esplosiva! Vabbè, non usarla! Non usarla! No, l'arco è una cosa esplosiva! Si distrugge, eh, madonna! A te! Ok, si è distrutto tutto, raga! Raga, tre! No, dai, no! Scusa, scusa! 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 Raga, tutta è una picconata, tutta è una picconata! Tutta è una picconata! Tre, due, uno, via! Eh, sì che... Volevo! No, no, Debra, non puoi fai tre con noi! Ok! Finita! No, no, un attimo! Devi fai Big Button! Allora, devi prendere un hit! Vabbè, è di otto di scudo, vabbè! Vabbè, ho perso solo otto di scudo, va! Ho perso tanto, non è tanto otto di scudo! Un attimo! Un attimo! Mi ha posto, era qua! Era qua! Vabbè! Vabbè, 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 cliccine! Tre, due, una, via! Madonna! Beh, non, vabbè, 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 c'è un circondetto! Vabbè, 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 c'è un circondetto, io! No, 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 è morto, è morto, è morto È che c'era Perché? Ah, sì, io pensavo che dovevo proprio andarmene Oh, Andrea, stai a fare Andrea, dai, smettila 3, 2, ora via No, no, è morto No, 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 stai curando, bravo, non, la cura No, Andrea! E lui non ho il popolo del donno, non ho dentro di solo, non ho dentro di solo, non ho un po' di più, e vabbè, hai vinto solo una big bottle, non è così tanto, io ne metto tre, io ne metto tre, scusa, bro, 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 come stai facendo, smettila, andrà smettila, andrà, smettila, andrà, smettila, andrà, smettila, un po' di ritmo in a male che dove vola idea, che mi 태ora. Mancilla pot todo le piscally indigente? Raga, viene! è sempre il te per primo dai ninja fa schifo dai però eh muore no 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 ninja non falla ninja non falla no ninja non falla Cosa stai facendo? 3, 2, 1, via! 4, 2, 1, via! Va bene, va bene! Vabbè, va bene, va bene! Attento, da dietro! Oh mio, oh mio Dio, oh mio Dio, ho piastato una cosa! Oh mio Dio, ho piastato... Nooo! Che nabbo! Scusa! A me! Che palle, da dove? Che palle, da dove? No! No Da avrò fai skifo no 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 ehm l'ho ucciso allora fattiamoci fattiamoci dai come possibile che non te ne ho chiestato eh non so è stato io è stato Andrea ah stai dire figa guardate è rotto non so non lo avresti mai però stati di calma che smirato ci sono che smirato smirato un botto no no io smirato un botto si si vabbè sto proprio a fa cagliare no porco giuda no no stiamo parlando vabbè raga prima ho fatto una pittoria una vecchina speciale dai fermo ninja dai vabbè 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 non è vabbè non vabbè 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 va non si non si ci 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 a sparire dal party Cosa ha fatto? Cosa? Cosa? No Andrea, Andrea, oh ok. Ehi, la sua unbotona fess. Cosa? 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 che pollo ok 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 va bene oh no ma pericolo vado io vado a mangiare se mi ammazzate vi uccido male no 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 non è vero andrea non è vero andrea non dire bugie andrea vado a mangiare e che va i che è che non è guarda 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 oh la mano con agli approfini la mano faccio il regio guarda ma così è fatto così è fatto così è fatto che non mi sono accettato che non mi sono accettato non mi sono accettato che non mi hanno collegato Archi non mi sono accettato non mi sono accettato ma io non sono accettato devo stare e io con non c'è l'invito sto andendo oh vuoi fare la mia mappa degli zombie? effettivamente ci sono tutti gli zombie, la vuoi fare? adesso già io lo prego, mi è già già quella mappa non è quella, è un'altra no, posso provare quella originale? non la fai? possiamo fare in una partita quando mi trovate dentro ma non ho mai visto non so come si chiama ma l'ha messo a mio amico e vieni qua, vieni qua facciamo la mia di mappa te lo porta, non ti amo ah ma io lui l'ho proprio trovata eh ma vuoi superare la mia mappa? te lo ti amo proprio sono in avanti non ti amo 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 tu hai non ti amo non ti amo Allora ora andiamo in alcun solito Eh? Non è un po' di scherzo sopra Non è un po' di scherzo No, po' la palla, vale! Ma allora abbiamo proprio un po' di scherzo Mi chiamava E' una cosa di piana Non lo so Devo chiedere un po' di scherzo Devo trovare anche dei bordi è presto a mezzo 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 c'è in corso che era marca del gioco che dà mezzo il gioco è presto a mezzo è presto a mezzo si chiama ancora è presto il gioco e in città non agli amico non so che mi accadde non so perché non sono�� c'è uno mio e questo è la mia che c'è E' un sacco! Mi faccio una partita di una minacca! Vabbè, mi faccio provare un'azza! Non si è capace di manca, non si è capace di manca! Non puoi entrare, la mia! Non era tu, è un'azza mia! Non è un'azza mia! Non lo conosco, non ci vuoi! Non ci vuoi, non ci vuoi! Non ci vuoi! Non ci vuoi! Questa, non ci vuoi! Questa, non ci vuoi! Io voglio andare nella mia preda! Io voglio fare il mio, un po' di percorso! Ma... E' un po' di percorso! 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 Io voglio prima! E' un po' di percorso! E' buon' di percorso! Ocode della nog messingia pecorso!!! E' un po' di percorso! E' un po' di percorso! Dato' Dato' Percorso! E' un po' di percorso! non c'è solo per cazzo è quello che cazzo è per cazzo il problema è il problema tanto per quanto l'anno ma mamma non vedete quando vedete sì Grazie a tutti. No, per quanto? Niente Te hai da un'indicazione? No Ma ma che vai da un'indicazione? No Ma quanto? No Ma che vai da un'indicazione? No, non c'è la peigne Però Non ci sono 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 E' un peggio Lo so Dai, vieni per le scienze Che hai da un'indicazione? Che non è una mappa che si può Ehi, che ho da un'indicazione? No Ehi, che ho da un'indicazione? Ehi, che ho da un'indicazione? Posso fare una privata? Non è in attivata però Questa è una parte della sua nuova Se no, adesso è più grande Non è in attivata Una no, l'altra si deve entrare e se no Ma io voglio fare la privata Non posso fare entrare Vanti passi per l'intervento Ma vuoi quella? A me non è rete Ma va a cagare Sì, guarda, guarda, va a cagare Magari non ci sono Non ci sono, a me non ci sono A me non ci sono Sì, non ci sono Sì, non ci sono rete Non ci sono Non ci sono Non Gesù di si ha esplacato Non si che hai esplacato No si che hai esplacato Non si che hai esplacato Ma non sei Ma io ho pusizato Ma che è esplacato ma noi ce me stai esplacato Ma io lo sto salendo Non mi fai esplacato Non mi freuvi Non si fai esplacato E le per le armi Sei sei che i occhi E non ho armi E non ho armi ma non te la metto più tanto qua ti faccio bannare le mani si perché che cazzo vuoi? ti faccio bannare bronce danno più uno account o più uno account va bene non ho ben quattro non ho ben quattro non ho ben quattro e c'è un signo bannico si non ho più il ployero nero oh è un mirallo con questo ma non si può sapere non è neanche uno non ho 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 no 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 bro no 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 bro Bro c'è l'invitato Non dico a te Bro c'è Davide Ok E' per il pizza su Vier Bro Oh Davide Sai che ho fatto una vittoria con 9 kg Beh E' entrando un tuo amico Cosa cosa Davide Così detto Davide Ah pure il mio amico bro Ah mio male Non mi ha spuso Bro c'è come si chiama Clássica Ciao Oh no. Ah! Pepe, pepe. Oh no. Ragazzi, vi consiglio una bellissima mossa. Quando un nemico vi prende il high ground, tipo così, voi non mettete sulla piramide. Mettete poi due muri così, saltate, mettete muri così, modificate piramide, fate così, mettete la scala, fate confondere e lo sparate. Easy. Lo sto dicendo a me iscritti, carattino. E' per la che vi consiglio questa mossa eh, che io devo ancora farla. Questa, che usa Fade's Way. Poi, mettete... Aspetta, una scala qua sopra non ci sta dai. Aspetta. Vabbè, è un po' difficile sta mossa eh. Non c'è solo fare il suo Fade's Way. Lo fate così. Mettetelo in un'altra scala così. Poi, fate... Vabbè. Eh? Perché è magnifica? Che è successo? Così, così. Poi, fate così. Fate così. Easy. Non è easy in realtà. Se volete. E così. Oggi, aspetta. Alcuni. Che è successo. Non è nel mondo. Continua. Oggi, azia. E il resto è nel mondo. Un'altro. 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 È il nostro. Un'altro. vada vada cioè sarà figlio allora ragazzi iscrittimie